Non sembra esserci pace in via De Attellis a Campobasso. Ieri mattina il proprietario della cartolibreria ha trovato la vetrina danneggiata. Tre colpi evidenti e uno più piccolo atterra due pallini d'acciaio del diametro di circa un centimetro. Uno tra la saracinesca Nido d'Ape e la stessa vetrina all'altro qualche metro più distante. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Indagano i carabinieri ai quali è stata fatta la denuncia. Questa mattina invece sempre nella stessa via, analoga sorpresa anche per un altro negoziante. Questa mattina all'apertura abbiamo trovato un danno sulla vetrina principale del negozio fatta evidentemente con una biglia d'acciaio perché poi l'abbiamo rinvenuta a un metro dalla vetrina. Si tratta di una biglia sparata come? Non lo so, presumibilmente con un mezzo meccanico, una fionda o qualcosa del genere. Chiaramente non è un mezzo, un'armata fuoco insomma evidente. E ha fatto la denuncia? Sì, l'abbiamo appena ratificata. Quando abbiamo rinvenuto la biglia c'era già la volante della polizia che ha preso nota di quello che era accaduto. Sono intervenuti dunque i poliziotti della volante, dal proprietario poi anche i carabinieri. Si esclude che i pallini siano partiti da un'arma da fuoco più probabile da una fionda di quelle professionali. Ancora in via di Attellis circa 20 giorni fa l'esplosione di una bomba cart davanti al negozio di un parrucchiere il quale ha anche rivelato di aver subito il furto di alcuni oggetti di lavoro. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Cosa c'è dietro questi episodi atti di balordi o altro? I negozianti tendono ad escludere ritorsioni, intimidazioni. No, no, contro noi non credo, sinceramente io credo siano atti di vandalismo belli e buoni, fatti da dei pochi di buono che spero che insomma la polizia arresti e gli faccia pagare i danni che hanno fatto a noi e credo similari agli esercenti di fronte al negozio. Fosse stato un gesto intimidatorio ai confronti degli esercenti di vita Attellis per quello che mi riguarda hanno sbagliato proprio casa insomma possono andare altrove insomma a fare questo tipo di gesti. In via di Attellis ci sono anche altri negozi. Desertica al massimo, alle 8 e 5 sembra quasi che ci sia il coprifuoco insomma per il corso non c'è più nessuno se non il bar centrale e poche altre attività. La stessa vita Attellis è completamente morta insomma qua dalle 8 e 10 sinceramente il buio è più totale ecco. Le telecamere sarebbe troppo sperarlo sinceramente non credo che l'amministrazione ci permetterà ci concederà una cosa del genere però la stessa illuminazione gialla crea questa luce soffusa molto molto bella sicuramente ma illumina pochissimo. Già utilizzassero lampadina a led mi creda che l'illuminazione sarebbe molto molto diversa. Guardi le vetrine.